Bello e bello, impettito col vestito da sposo. 79 anni, il capello bianco è l'emozione di un ragazzino. Dopo una vita da imprenditore però, ora vuole pensare un po' a se stesso. E fa sul serio, perché è pronto a coronare i suoi sentimenti con un bel matrimonio. La sposa ha soltanto 42 anni meno di lui, ma si sa, questi sono dettagli, l'amore non ha età. Lei è una ragazza serba, ed è la fidanzatina di papà. A proposito, i figli è meglio che non ne sappiano niente, perché ve li immaginate come potrebbero reagire? Papà è preciso, ama la sua fidanzatina e vuole sposarla, come si faceva una volta. Beh, diciamo due. Sì, perché papà ha già portato l'anello, ma adesso è divorziato. Ora però, sicuramente questo, per la giovane promessa sposa, è un amore vero. Anche se in paese, si sa, la gente mormora e qualcuno forse si immagina che ci siano ragioni che vanno al di là del cuore. Come succedeva in quel film, vi ricordate? Si sta mangiando tutto il nostro patrimonio. Dico, papà, dico sì, sei mesi e il conto è più sciuta. Scusate, papà, avrà il diritto di usare i suoi soldi? No! Questo è solo un film, sia ben chiaro, senza alcun riferimento a cose o persone della storia di Cornedo Vicentino. Quella che però si è scatenata nel municipio di Cornedo, nel momento del fatidico sì, è una scena da cinema. Sono improvvisamente intervenuti i figli del promesso sposo e hanno bloccato tutto. Sono arrivati anche i carabinieri. Si è scatenato un putiferio. I figli erano contrari, non volevano che il loro padre anziano sposasse questa giovane di 37 anni, che era probabilmente la Colf, una differenza di 42 anni, quindi ritenuta sproporzionata, e hanno cercato di annullare il matrimonio. Però, se non c'è stata opposizione, prima il funzionario ha l'obbligo di celebrare il rito civile. Alla fine i promessi sposi sono tornati a casa, con l'impegno di riflettere meglio sulle ragioni dei figli che di quell'unione non ne vogliono proprio sapere. Insomma, matrimonio rinviato. Sì, ma fino a quando?